Salve, io sono Simeone Cardamone, sono il delegato al coordinamento del COM numero 10 di Sovere e Mannelli. Bene, ci troviamo nella sala radio di questa sala operativa, abbiamo tanti tipi di radio, abbiamo il collegamento con i vari COC del COM, i COC del Comune di Decolatura, Carlopoli, Cicala, San Pietro Apostolo e Sovere e Mannelli e poi abbiamo le altre radio per il collegamento tra il COM e il CCS della Prefettura di Catanzaro, collegamento con la Croce Rossa italiana e il collegamento con la sala operativa regionale Calabria. Infine abbiamo anche una stazione meteorologica, continuamente rileviamo i dati meteo nella nostra zona e abbiamo tutti questi dati a disposizione. Grazie Grazie